Esimio Giorgetto Giugiaro. Con profondo rispetto ed emozione ho contemplato le sue opere di design, uscite dalla matita nelle sue mani. In qualità, di architetto che conosce la composizione e intravede la sezione aurea. Osservo che tutte le sue opere ne sono pervase. Nell'infanzia noi copiavamo e ridisegnavamo queste linee e la concomitanza degli elementi della carrozzeria. E non sapevamo che lei ha materializzato la ricchezza dell'universo. Con la massima ammirazione ci inchiniamo a lei e alla sua creatività, apprezziamo il suo talento e le facciamo gli auguri per il suo compleanno il 7 agosto. Le auguriamo di vedere lunghi anni e vorremmo poterle stringere la mano. Penetrare nella sua creatività, nel pianeta del suo design. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.